Avviare in ogni comune uno sportello filtro assieme oppure in alternativa ad un centro di ascolto per le donne presso i corpi di polizia municipale unitamente ai servizi sociali è l'obiettivo del learning meeting dell'ufficio della consiglia regionale di parità che si è svolto a potenza nell'aula grippo del palazzo di giustizia. Quella potentina è la penultima tappa di un percorso avviato nell'ambito del progetto Conoscere per Prevenire che ha portato all'organizzazione di seminari dei mesi scorsi a Rionero, a Lago Negro e a Policoro. Si tratta di learning meeting, di incontri operativi per far sì che nei nostri territori, presso i comuni in particolare, si avvino gli sportelli o i centri di ascolto per le donne. Quali? Primissima tappa di una donna maltrettata o violentata o in difficoltà nel mondo del lavoro perché poi dagli sportelli si dovrà passare nei centri preposti, nelle case rifugio, antiviolenza, nei centri che qui ci sono. Ma perché sono importanti gli sportelli e i centri di ascolto per le donne? Perché una volta tolte dall'emergenza le donne vittime di violenza, infragilità economica e sociale hanno bisogno di supporto per riprogettare la propria vita personale ma anche il proprio percorso professionale. Questo è un ruolo fondamentale perché soltanto ridando dignità, autonomia, autostima alle donne riusciamo a toglierle completamente dal disagio vissuto. Grazie. Grazie.